A Calizzano gli anni scorsi sono successe parecchie tragedie stradali, le strade adesso sono migliorate? Si sono stati fatti da parte dell'amministrazione provinciale alcuni interventi direi molto significativi e estremamente consistenti che hanno migliorato quelle situazioni che hanno dato origine ad eventi luttuosi. Altri interventi sono in via di compimento lungo la strada che collega con Millesimo e quella che collega con Borghetto Loano. Quindi direi che sotto quel profilo la sicurezza è certamente aumentata, perlomeno la sicurezza stradale e quella passiva. Il resto lo si lascia alla buona volontà degli automobilisti. Quali interventi specificatamente sono stati fatti? Interventi di messa in opera di guardrail, modifica dei piani viabili, asfaltature e quindi direi che si è dato luogo veramente a ciò che interessava per quanto riguarda la sicurezza.